Benvenuti ragazzi sono i noblaze, oggi ti prendiamo su strider e come potete vedere sono di nuovo nella casa in paese Quindi di nuovo al buio nella bot caverna e siccome mi annoiavo e non volevo sistemarmi i capelli Diciamo li ho reaggruppati qui in questo simpatico aggeggio e basta Mi scoccia sia a pettinarmi sia a andarmi a tagliare che cosa che farò fra qualche giorno ma ora chi se ne frega Continuiamo la nostra avventura con strider Completamente a caso perché siamo arrivati qui dopo aver battuto Angemon nello scorso episodio E ora, buh, ora che si deve fare? Oh 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 Giustamente abbiamo imparato il nostro ultimo potere è stato quello di deflettere i colpi Fregate Scendiamo Oh stronzi Vabbè Ok, a destra Un accio? Va bene, bocco delle cialde È il Joker, l'hanno buttato qua dentro Questo ha direttore i capelli peggio combinati dei miei Sono contento di questo Bene Joker ci ha detto che conosce noi strider Quindi io dopo aver scontato che fosse il suo nome invece è la tipologia di ninja penso, uno strider Ci ha detto di cercare un contrabandiere, va bene Ok, disintegrato l'allarme Io direi che è meglio andarcene Dobbiamo tornare indietro Quindi scendiamo da qua Andiamo a sinistra Salve E andiamo avanti Scendiamo sempre nell'oblio Stiamo andando da Satana E da qui vado Programma di test Sopravvi Ok, sopravvi Vabbè, fino a qua inizia difficile Nel senso Era tutto qui la sopravvivenza Sono forte allora Meno sbloccato le porte Scendo Puttana Che paura Non era difficile Sono io che sono scendo Ho capito Non mi hai fatto fare niente Ma stai scherzando La smettiamo? Guarda tu Ok Oh, grazie Ma siamo tornati in contra Su contra Ah, giustamente Devo scendere ancora? C'è qualcosa qua Salute massima Mi sta più che bene Posso continuare di qua Continuo a scendere E dovrei continuare Tra l'altro Dove sto andando? Non ci disturbi Guardi Faccio subito È chiuso Ah No vabbè Mi hanno aperto la porta Posso andare avanti Ma mi hanno aperto la porta Da qua Eh, ecco Guarda caso Da qua posso passare Certo Con un po' di fatica Ma Posso passare Oh Grazie Dalla salute Si sale Ok Adesso è sbloccato Anche il secondo Il terzo E scendendo da qua Boom Ok Ho tolto l'acido Posso finalmente Andare avanti Interfaccia Option A Overdrive Vabbè Fai tu Dimmi esattamente Dove devo andare Là Perfetto Io subito No Vabbè Continuo Che devo fare Oh Mio Dio I Severcrab Scarafaggi Questi mi mancavano Nel gioco bellissimo I scarafaggi alieni Quanti però Ok E me ne sono già andato A essere insidiosi Non è a sinistra Non mi aprono Finale Aia Bravissimo Sempre Tu si che sai farci Oh Aia Ok Adesso non ho aprito La porta cortesemente No Voi volete Che io Vada Ancora più su Potevate Dito anche prima Però Ah No Ma devo aprire La porta Giustamente Scusate Ho trovato la strada Credo Oh signore Il platforming Ok È tutto molto semplice È proprio Orca puttana Se l'ho fatto Se l'ho fatto A culo Ok Se ti acchiappi Tu potresti Ho avuto la prima volta Ma ora Tutti tre Siamo tutti Avrei anche vinto tutto molto Ma ora siamo tutte e tre Quindi Tong Po E una Ma miseria E gli altri due Sono sullo sfondo E ho capito E ho capito però Questi non si possono schivare Bellissimo Adesso Tutte e tre No Si danno il cam Non lo so Che stanno facendo Tutte e tre Yeah Mamma mia La tripletta Una è andata Non so quale Delle tre sorelle Però Un'altra è andata È rimasta la più tenace Quella verde Arrivederci signorina Alla è famiglia Torneremo ancora Basta Quante sorelle siete E io vi abbatterò di nuovo Justamente Option A Disco di pode Che figata Ho delle robe nuove Aha Tutto ha un senso Va bene Mi curo E vado via E direi che devo andarmene Il più in fretta possibile Da qua Permesso Salve Salve Oh Via E E Eccolo Boom Ok L'ultimo L'abbiamo rimosso Possiamo andare avanti Oddio Quanto schifo Vorrei andarmene Cazzo Sbagliato Qua Qua L'acqua Grazie Minimapp Bene ragazzi Abbiamo preso questo checkpoint Direi che dopo aver terminato la famiglia di Winnie the Pooh Va benissimo così Ci possiamo fermare anche qua Tanto il boss abbiamo battuto E abbiamo fatto Un bel po' di strada Anche se Il capitolo non è finito In ogni caso Se il video è piaciuto Fatemi sapere attraverso mi piace In descrizione sempre pagina Facebook e Twitter Twin In descrizione sempre pagina Facebook e Twitter E quindi andate a mettere mi piace alla pagina Facebook Condividete il video se potete Se non siete ancora iscritti iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi